C'è anche la televisione? Certo. Sono abituato a un altro tipo di microfono però. Cerco di renderlo più familiare possibile ma non ce la faccio. Ok, grazie per essere venuti. Non so cosa dire perché nessuno mi fa una domanda. Beh, 40 anni che ti amo. Ma inizierai dal disco da 40 anni che ti amo. Sì, è uno special guest che è avvenuto in questo progetto. Ma si può schiarire un po' la voce? È troppo... Il nostro tecnico. Ah, 2, 1, 6, i, si. Ah, ok. Un po' più... Ok. E dicevo no, è un progetto assolutamente forte perché io, insomma, dopo una carriera che voi conoscete e che ho fortunatamente fatto, non mi sarei mai aspettato di poter festeggiare questo anniversario di ti amo con un artista così forte. Più che importante, io da musicista valuto vocalmente. Siccome poi ci sono anche dei retroscena che gli altri magari immaginano così complessi, invece con gli artisti forti serve solo parlarci e ci capiamo subito. e subito si arriva o sì o no, senza intermediari e senza nessuno che si fa bello per aver ottenuto un gancio di questa natura. E così è avvenuto con Anastasia, che è una persona stupenda, umanamente oltre che artisticamente, e quello che è avvenuto è stato per me una cosa molto gratificante, che arrivo anche da un passato, devo dire, importante con gloria, con la versione di Laura Brannigan, che ha, insomma, varcato l'oceano dopo anni che non succedeva a un italiano come autore, perlomeno, di poter arrivare oltre oceano. Ed è stata una seconda conferma e così gratificante e quindi gioiosa. Applauso. E poi ci sono due inediti, no? E poi ci sono due inediti, credo, molto belli, perché sono molto autocritico, quindi ho scelto un brano mio che si intitola Tu per sempre tu, e poi per un caso così come lo è stato per Anastasia ho sentito Eros per parlarci di altre cose che non accettavano niente col lavoro e ci siamo salutati. Io ero nel studio dove stavo registrando all'overstudio di Cento in provincia di Bologna e lui mi ha detto ma hai bisogno di brani inediti? Io ho detto no, però io ascolto sempre e volentieri le cose degli altri e così è successo, in breve lui mi ha mandato, ho detto se hai una cosa forte, mandala! E lui me l'ha mandata e in combinazione era un brano che mi interessava e l'ho arrangiato e questo è il risultato, è avvenuto tutto così. E c'erano anche Francesco Bianconi che balla ai guidetti, giusto? Sì, perché lui iscrive con questo gruppo di lavoro. E il tour invece è mondiale? Beh, insomma, mondiale non ai livelli di Michael Jackson, però è comunque un tour importante e sono felice di farlo. Partiamo chiaramente dal paese nostro, dall'Italia, e facciamo l'esordio del 14 a Milano, poi facciamo Torino che è anche la mia città natale, poi altre città importanti italiane, Roma, Bologna, eccetera, eccetera. E poi sì, comincio a fare alcune tappe in Europa e poi ci spostiamo per un altro tour impegnativo in Germania di 12, credo, un po' di più, non so, vediamo. Forse io non ne sono a conoscenza esattamente di quanti, però in ogni caso facciamo questo tour in Germania, nel frattempo passiamo dal Canada e oltre a Toronto, forse ci sono altre città importanti, tipo Montreal, Vancouver, eccetera. e poi ci dedichiamo, almeno mio figlio si dedica a questo, perché io sono un po' fuori dal giro del booking, però Gianluca, che è il fautore, tra l'altro, di questo progetto, è il producer, mi piace ringraziarlo perché ha fatto un grandissimo lavoro e ha messo in piedi anche un'equipe intorno a noi di persone molto, molto forti, il nostro Umberto, che si chiama come me, Milo, che si occupa dei concerti, della concert, e poi altri personaggi che sono stati molto importanti per realizzare il tutto. Beh, io passerei adesso le domande, no, dei giornalisti, cioè di appunto, chi vuole. Ciao Umberto, ciao caro, come stai? Non sono la balletta, posso fare? Grazie Umberto. Però velocissimo, tre domande. Uno, se eri stato incontattato da Scorsese per Gloria dentro il lupo di Wall Street, due, come mai non c'è Here and Everywhere nel CV, che è il tuo pezzo preferito, lo fai dal vivo spessissimo, la terza, dato che sono vecchio e imbabito, non me la ricordo più. Però, cioè... Io Here and Everywhere lo faccio nel after show, abitualmente, sì. Quando capita, io e i miei musicisti ci fermiamo da qualche parte a mangiare un boccone. Ah, sì, ho la terza. Allora poi prendiamo la chitarra e... Senti, la terza è, visto che stiamo vivendo in un momento... Comunque di Scorsese purtroppo non ho avuto il contatto, mi sarebbe piaciuto molto perché è una persona... Quindi lui l'ha presa, l'ha presa a tua insaputa. Sì, beh, sì, ha fatto richiesta verso altri canali, però non c'è stato un contatto, ma comunque sono assolutamente contento di questa scelta. Sì, mi risulta che Di Caprio si è impazzito per questo pezzo. L'abbia scoperto un po' tardi. Beh, io sono contento che lui intanto, fortunatamente qualcuno gli ha riconosciuto un Oscar, perché è uno che ha un talento così, insomma, ha fatto quello che ha fatto nella sua carriera fino a poco tempo fa, ha fatto delle cose, insomma, che segneranno la storia del cinema e meritava assolutamente un Oscar e finalmente gli erano dato. Sento. Ma che gli risulti Gloria un pezzo forte, mi fa molto piacere. Eh sì. Volevo chiederti se per caso non vi è mai valuginato per l'anticamera del cervello di fare una roba tipo Tozzi, Ruggeri, Morandi e se c'è ancora Gio Vescovi nel tuo gruppo. Ho finito. Parto dall'ultima. Gio purtroppo è mancato qualche tempo fa. E lo scusa. No, no, niente niente. Ma Morandi e Ruggeri li ho visti mentre ero all'Overstudio a Bologna dove stavo registrando e li ho chiamati per venire a pranzo con me perché mi sarebbe piaciuto molto insomma, rincontrarli e ci vediamo raramente o purtroppo ormai e ho detto dai, venite così a pranzo e facciamo un pranzo e ci ricordiamo i bei tempi di quando facemmo il stipulare di Pio Sanremo e loro sono molto carinamente venuti e abbiamo fatto un pranzo fantastico ma onestamente non abbiamo parlato di nessun progetto anche se ho letto che qualcuno come fanno non so dove prenderlo le notizie però in ogni caso o se li inventano ho capito però Morandi l'ho trovato fantastico come sempre Ruggeri era anche molto gasato per il suo nuovo progetto con i Decibel eccetera eccetera insomma mi ha fatto un po' di chiacchiere non ti nego che se dovesse un giorno nascere qualcosa per così per ricordarci insieme di questa grande canzone e di quel periodo stupendo che abbiamo vissuto insieme mi farebbe un enorme piacere però al momento ognuno ha le sue cose e quindi non siamo indirittura d'arrivo Ricci ciao qua Fabio Ricci ciao senti ma dopo 40 anni non fai fatica a non mettere mano alle tue canzoni cioè a dire questa è la ribalto questa gli cambio le parole ti capita mai? no perché al contrario di alcuni miei colleghi che conosco e che hanno ribaltato le proprie canzoni io sono sono un artista al quale piace proporle così come la gente le ha ascoltate anni fa e questo è anche il risultato di un successo live perché quando tu cambi o un accordo o una parola o un arrangiamento su certi brani così famosi dal mio punto di vista io da spettatore a me non piacerebbe quando vado a vedere un artista mi piace riascoltare le sonorità impossibile però il modo di cantare che aveva in quel momento lì in quella canzone piuttosto che l'originalità di una chitarra che ha un'importanza rilevante su quel brano cioè quelle sono cose che non si possono sarebbe come se i Rolling Stones facessero Satisfaction con il pianoforte il riff è quello ma uno vuol sentire quel suono lì e ricordarsi quel momento e l'emozione che è generata in quel momento come è cambiato il tuo modo di fare musica in questi 40 anni e se vedi tra i giovani artisti di oggi qualcuno che potrebbe essere come l'Umberto Tozzi che ha scritto Ti amo 40 anni fa dunque dunque intanto il modo di vivere mio non è mai cambiato nel senso che ho sempre cercato di fare nella mia carriera delle cose diverse dalle produzioni precedenti però ricordo che fare una una canzone che è un successo dopo l'altro come è avvenuto a me da Ti amo a tu a Gloria Stella Stey Notte Rosa cioè sono delle sono dei brani che oggi riconosco quando li faccio al vivo quando vedo la reazione e l'emozione della gente che mi viene ad ascoltare e riconosco che erano delle cose forti io all'epoca non mi rendevo tanto conto bene di quello che facevo però sapevo che in ogni caso erano delle canzoni forti ma ma non mi sarei mai aspettato ecco di ritrovarmi i 40 anni dopo qui con voi a parlare di una canzone mia che ritengo peraltro che Ti amo sia una delle canzoni più originali del mio repertorio a parte la prima che ha avarcato la frontiera di Chiasso ma come posso dirti oggi oggi purtroppo onestamente ma io non sono bravo non capisco tanto la musica degli altri e quindi niente io mi sono fermato dai Beatles ai Police e dopo diciamo che emozionalmente ho sentito poche cose forti in Italia l'ultimo artista che mi ha emozionato di nuovo è stato Tiziano ferro perché ritengo che abbia una personalità vocale e una scrittura originale e questo fa sì che mi emozioni qualcosa nella nuova generazione purtroppo non ho visto un seguito di questa natura io credo che i ragazzi di oggi debbano in qualche modo riconfrontarsi con altri musicisti lasciare a casa il computer andare in cantina a suonare come facevamo noi e cercare una personalità di suono in ogni produzione che fanno cosa che non avviene poi da artista ti dico che obiettivamente non c'è tanta originalità vocale personalità vocale e questo fa sì che emozionalmente un brano quando lo ascolti hai capito non sai di chi è cioè può essere uno può chiamarsi Paolo o Giuseppe è uguale questo non va bene perché la cultura musicale ci insegna almeno a noi che da quando io ero ragazzo e compravo i dischi gli RP in vinile ogni volta che mettevo la puntina su passavo nei pezzi cioè impazzivo per la sonorità di quell'artista che potevano ad essere gli ES Pink Floyd piuttosto che tutti i grandi della storia del mondo rock mondiale non a caso ho detto i police perché dopo i police non è più successo niente anche se dall'Inghilterra riceviamo sicuramente dei grandi artisti ancora oggi dall'Italia purtroppo no ma io credo che le caratteristiche siano dovute a questo tipo di cose che ti sto spiegando in maniera da musicista se ci fossero questi requisiti sicuramente emergerebbe ancora qualcuno che potrebbe avere una carriera un po' più lunga ma senza questi requisiti della personalità vocale di una scrittura originale o ecco così che sai oggi forse è più importante per la nuova generazione il fatto di porsi in un certo modo sia televisivamente che bla bla parlando così insomma eccetera ma non c'è niente di artistico hai capito secondo me ciao Alberto senti sono qua di fronte a te in relazione proprio a questo concetto che hai appena espresso io volevo chiederti che ti piacciono o meno anche se sembra aver capito che non ti piacciono e non li segui granché la senti l'influenza del tuo scrivere del tuo songwriting in gruppi come dei giornalisti lo Stato Sociale Roazzi perché per me comunque a livello di sintetizzatore di scoperta di certe sonorità vintage prima anni 80 c'è molto di Uberto Tozzi nelle canzoni che poi sono passate in radio di questi artisti la seconda domanda è il tour apre a Milano il 14 aprile è anche un tributo agli anni gloriosi CGD Bigazzi Via Quintiliano dove poi fra l'altro mi sembra che Ti amo sia nata a Milano a livello proprio di forma e incisione registrazione sì abbiamo registrato a Milano sì CGD grazie poi ne avrai ancora una terza anzi sì no guarda ti dico la prima ti rispondo così che sostanzialmente non vedo questa linea diciamo vicino la mia creativa però mi fa molto onore che qualcuno cerchi di in qualche modo puntini puntini ripetere una storia perché vuol dire che le mie non erano solo canzonette così come non voi perché siete giovani ma dall'epoca mia insomma venivano reputate delle canzonette non più di tanto e invece invece no la storia ha poi dimostrato il contrario e quindi non vedo esattamente però mi onorerebbe che qualcuno riuscisse a creare un genere musicale anche vicino alla mia creatività che possa durare nel tempo la terza domanda mi rendo conto che di It ne hai scritte tantissime però nel C di nuovo manca Eva che per me è forse uno dei brani più futuristi della musica pop italiana degli anni 80 Eva è stato un grande successo pensa io l'ho scoperto da un amico che mi ha fatto quanto sei orgoglioso di averla scritta e di averla incisa in quella maniera lì a livello sia di armonia che poi anche di di arrangiamento arrangiamento certo era un po' troppo avanti all'epoca quell'arrangiamento lì era un po' troppo avanti tutto sommato mi ha gratificato molto il fatto di di un gruppo che si chiamava Banda Eva che è nato in Brasile da una cantante famosissima che lo è diventata da lì in poi Sangallo si chiama lei non mi ricordo il nome Ivete bravo sì Ivete Sangallo e senti questa versione perché me la fece sentire un mio amico e disse sai che in Brasile c'è un grande successo si chiama Eva ma sì è forte e senti questa versione fatta in stile musicale brasiliano bellissima orchestrata al genere loro eccetera però è una canzone che onestamente io non metto nel repertorio almeno non sempre perché fortunatamente se dovessi accontentare tutti dovrei fare metà repertorio un giorno e metà un altro capito è un casino cerco di fare dei medley di un minuto a pezzo ogni tanto per raggruppare alcune canzoni che diversamente non riuscirei a fare nei live però di più non riesco a fare oltre due ore non insomma è un casino e quindi ogni tanto la faccio ogni tanto non la faccio mi dispiace di scontentarti ma ciao sono Simone c'è qualcuno che mi chiede ogni tanto Marea che è una canzone che io non mi ricordo neanche un accordo di quel brano lì perché poi le cose mie non le risento mai e quindi ogni tanto non mi ricordo ero ah sì ero le Maurizius e lo chef dell'hotel dove ero era un francese e mi diceva Marea Marea che è l'alta Marea che succede invece no era una canzone mia ma non me la ricordo cioè sì mi ricordo qualcosa di Vago Simone eccomi ciao sono Simone di Radio Due Laghi Varese due domande la prima se ci puoi dare qualche dettaglio in più riguardo la tua collaborazione con Anastasia e poi la seconda riguardo l'Eurovision Song Contest sono passati 30 anni della tua partecipazione se questa potrebbe essere una nuova il vaga anche per la musica italiana visto che ultimamente viene seguito molto in Australia dove tra l'altro Umberto Tozzi è sempre stato particolarmente offrezzato anche dall'amico comune due in zigliotto ma dunque con l'Euro Contest non posso più partecipare perché bisogna vincere Sanremo per andare lì quest'anno c'era un collega mio che tra l'altro è anche molto quotato per fare dei numeri lì però però in ogni caso io l'esperienza che ho vissuto insieme a Raf quando facciamo Gente di Male è stata bellissima ma più che altro perché è stata una cosa bella io abitualmente amo molto dividere il palco con altri artisti perché nasco come musicista e facevo il chitarrista prima di cantare quindi ho vissuto molti palcoscenici dividendo il palco con altri musicisti con Raf abbiamo diviso questa cosa qui è stata bellissima un'esperienza bella una settimana fantastica e poi però è finita lì tra l'altro arriviamo a terzi ma perché eravamo vestiti male se no l'avremmo l'avremmo anche vinto e la giuria all'epoca voleva lo smoking piuttosto che noi siamo presentati così come eravamo e non andava bene ma al di là di questo poi per una stagia ti ho già detto cioè è stato un incontro abbastanza così semplice non è stato assolutamente forzato da da nessuno e da niente è stata una cosa bella che è avvenuta e basta abbiamo una sorpresa vero? sì visto che si parla di Anastasia tra l'altro Radio Silver è qui gli italiani nel mondo dopo potrai fare la domanda a Umberto ma credo che Anastasia abbia voluto essere presente anche lei nella conferenza stampa di Umberto ecco Anastasia ciao ciao mio amico Inberto come puoi vedere abbiamo finito un po' di cose che ti sorprende ma voglio dire che sono molto honore di cantare questa canzone con te e sono molto grattura di essere parte di questo fantastico album I can't wait to share a stage with you my friend Carina qui ci scatta l'applauso perché comunque Radio Silver bella abbiamo fatto una sorpresa una bella sorpresa sì io sono di Radio Free Station e volevo chiederti tu ne resti a Sanremo ma non come ospite come partecipante come turista anche perché Sanremo secondo me è cambiato un pochino e quindi è un po' mischiare i giovani con quelli che sono i grandi personaggi della musica italiana tu faresti ancora questa esperienza scusa per il tour no figurati no anzi mi fa piacere che mi dai del tour perché così mi dimentico la mia data anagrafica e no io non ci vado spesso saremo per perché vado come turista come ti ho detto prima c'è una data sì lì come artista vado sì ma vado come turista spesso perché ho degli amici che insomma hanno delle cose lì vivono lì e io abito lì molto vicino e quindi insomma vado spesso ma non non tornerei no il festival io non c'entro più niente ma nel senso che cioè è bellissimo così come lo fanno adesso e ho apprezzato molto questo ultimo festival a livello di cinematografie di di suoni della grande orchestra grande lavoro dei tecnici c'è stata una professionalità veramente fortissima e Carlo Conti è sempre il numero uno secondo me per una manifestazione di questo tipo è tutto bellissimo bravissimi tutti però io non c'entro sicuramente più niente non saprei cosa cioè posso andare come farò posso andare all'Ariston per fare un concerto ma niente di più grazie prego altre domande quindi poi c'è una sorpresa quindi altre domande eccola ciao Umberto ciao buonasera senti volevo sapere allora due cose visto che hai fatto questa canzone Ti amo con Anna Stesca se durante una delle date del tour è previsto magari che lei arrivi e facciate questa canzone dal vivo e se non è previsto se ti piacerebbe che venisse e se poi diciamo in futuro ci sarà un'ulteriore collaborazione con lei per altri tuoi brani o magari per dei brani inediti guarda io onestamente mi piacerebbe assolutamente sì che lei venisse però lei è molto impegnata perché ha iniziato il tour proprio io mentre ero in studio lei era a Stoccolma perché aveva lì la band per fare le prove in più sta facendo una produzione nuova discografica che uscirà a settembre e so che è molto impegnata eccetera ci siamo sentiti come avviene solitamente però non c'è nessun programma proprio in merito lei mi ha invitato ad andare lei fa due date in Italia in estate credo a luglio e mi ha invitato ad andare io spero di esserci per poter fare questa sorpresa a lei e al contrario mi piacerebbe molto la facesse a me però dipende molto dalla schedule del suo programma la collaborazione futura non lo so bambini insieme no però però non lo so magari non lo so è una cosa che non si può assolutamente prevedere arrivo arrivo Soria scusami è una cosa bellissima un quarto arrivo ovunque mica solo su Facebook salve no volevo sapere visto che c'è questo bellissimo box special box in le edizioni se ci sarà anche un DVD che racchiuderà immagini piuttosto che riguardo i video del passato oppure un DVD dei live che farai nel prossimo tour guarda c'è un credo di poterlo dire c'è un video che abbiamo registrato io Anastasia e questa sarà la seconda domanda infatti c'è un video che abbiamo fatto insieme e non so termini di tempo non ti so dire quando sarà visibile però abbiamo finito di girare 5 giorni fa quindi ci sarà questa cosa molto bella abbiamo avuto una grande produzione di video che ha realizzato questo video e sono molto contento già di questo poi per il resto non ho idea dobbiamo vedere sai noi partiamo col tour poi un sacco di cose di idee vengono state da facendo posso sapere dove avete girato il video con Anastasia si abbiamo in una location tra Stoccolma e Milano due location però nel video siamo vicini vai vai isabella radocernuska RCS volevo sapere altri artisti del panorama internazionale con cui ti piacerebbe duettare con cui non ti è ancora capitato anche della scena recente ma canti purtroppo tanti però se capitasse che mi chiamasse qualcuno mi piacerebbe molto insomma come ho detto prima io ho avuto nella mia carriera tante collaborazioni appunto Morandi Ruggeri Raff insomma altre cose che ho fatto all'estero in Francia però sai sono cose che non si possono pensare o stabilire prima noi quando io e la mia produzione abbiamo deciso di di toccare questo questo punto di arrivo con Anastasia è stato veramente immediato abbiamo pensato a lei l'abbiamo chiamata in giro di 24 ore abbiamo realizzato tutto ma in maniera molto semplice quindi quando avvengono le cose in maniera così spontanea tutto si può fare con chiunque quando ci sono compromessi di mezzo o entrano di mezzo personaggi scomodi discografie eccetera eccetera non si arriva a un risultato emozionale che la gente alla gente non frega niente cioè la gente riceve le collaborazioni artistiche in una maniera molto semplice molto umile e tranquilla invece noi a priori facciamo invece dei ragionamenti artistici diversi che non collimano per niente con quello che è l'emozione che tu puoi ricevere il capitolo dici c'è una nuova cosa che farò insieme a Paul McCartney ma non perché si chiama Paul McCartney semplicemente perché è una cosa bella con chiunque con qualsiasi altro artista italiano o estero uguale calcolare queste cose è impossibile nomi da parte mia ce ne sarebbero talmente tanti che vabbè anche voglio dire purtroppo non non più viventi ciao Berdo due cose la prima in questi 40 anni è cambiato per te il significato di ti amo no perché onestamente come dicevo prima cioè io nei live la faccio così come è nata per cui non è mai cambiata è cambiata questa versione perché onestamente è cambiata cioè lo si sente proprio che è cambiata a parte le sonorità nuove e un arrangiamento leggermente diverso eccetera eccetera ma questa l'avvento di Anastasia è stato qualcosa che ha stravolto diciamo anche tutto l'arrangiamento io infatti ho dovuto cambiare un sacco di cose quando ho ricevuto la traccia di lei perché perché comunque lei ha uno stile molto hai capito blues molto non c'entrava più hai capito quello che avevo fatto io era un po' basandomi su sulle sonorità e il gusto mio di una volta invece ho dovuto cambiare delle cose fortunatamente è venuto benissimo e sono contento di aver realizzato un progetto così importante in questo modo che a livello musicale suona da Dio e arriva un sacco arrivano un sacco di emozioni nuove ecco per questo la sento nuova di emozioni di emozioni quando sei cambiato tu in questi 40 anni dal primo tiago eh purtroppo tanto eh ho qualche capello in meno eh 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 sono cambiato un anno di più sono cambiate tante cose ma la cosa bella che non è cambiata è è il fatto di entusiasmarmi sempre quando sento delle cose forti e a livello musicale sono felice e mi ritengo un privilegiato per di avere di avere fatto un mestiere una carriera così importante lo possiamo dire non è non sono un auto un auto lesionista e cioè insomma non succede spesso ecco questo e quindi cioè sono oggi più che mai cosciente di di quello che ho realizzato negli anni e quindi sono sono molto felice di questo grazie visto che le cose ti riescono non qua quella di prima visto che le cose ti riescono così bene posso dire a Paola Barale eh grazie ma io ci vedo poco però no allora non va bene no scusa ma la battuta dovevo fare no volevo dire adesso mi hai mandato in confusione se c'è ah visto che le cose ti riescono così bene Razz come stai volevo sapere se hai delle passioni extra musica se c'è qualcosa che ti piacerebbe fare o se c'è qualche qualcosa di particolare che guarda ho dovuto smettere di giocare a tennis perché ho un problema al ginocchio qualche mese e solitamente lo facevo perché mi divertiva molto adesso gioco su iPad è uguale no però no qualche hobby particolare o qualche passione tua ecco se stai dedicandoti anche a delle produzioni per esempio io mi piacerebbe un giorno e penso di riuscire a farlo è una questione solo di tempo perché la produzione ce l'ho già pronta io dipingo forse non l'ho mai detto ma dipingo e mi piace molto è un tipo di arte che mi mancava a livello creativo credo anche che quello che ho fatto sia qualcosa di bello anche se non sono Gaugano o Van Gogh ma in ogni caso qualcuno mi dice che comunque ho una personalità sul pennello e questo mi fa molto piacere non so se tutti la pensano come mia moglie perché è lei che me lo dice lei forse no ma lei è molto critica per cui sicuramente se mi dice così è perché io non sapevo fare neanche una O col bicchiere quando lei mi disse un giorno perché non dipingi e io gli disse guarda non so neanche fare una O col bicchiere e poi invece improvvisamente mi ha messo tutto davanti perché io sono molto pigro e mi ha preso insomma delle tele mi ha preso dei pennelli colori e tutto da e mi ha detto dai dipingi scrivi cioè disegna qualcosa e lì mi sono accorto che in maniera molto naturale sono riuscito a dare le proporzioni che è una cosa molto importante nella fittura no l'ho capito dopo ma mi veniva naturale farlo e questo è stato il primo passo e poi quello che ho fatto in seguito è abbastanza bello e quindi mi piacerebbe molto fare una una mostra troppo importante è una parolona però comunque non per venderli ma perché mi piacerebbe farli vedere capito qualcuno me l'ha già anche chiesto però vorrei avere ancora più materiale perché mi piacerebbe riempire proprio le pareti di questo questo posto dove forse riuscirò a fare a fare questo esordio nella creatività della pittura non avevi mai parlato però no è una cosa molto bella una cosa che mi piace molto perché pensavo che oltre alla creatività musicale non ci fosse altro per allontanare la testa invece nella pittura ho trovato quel mondo lì capito nel quale ti immergi e ti dimentichi di mangiare di bere di fumare di fare tutte le cose che abitualmente fai quando quando non sei impegnato con la testa no e in quel modo lì è stava veramente una scoperta per me ci sono ancora delle domande però se visto che le sorprese non sono finite abbiamo volevamo farmi credere visto che è arrivato ma Umberto neanche lo sa il video l'abbiamo quasi finito lo hanno finito di montare volevamo farvi vedere un minuto in anteprima e soprattutto per voi se Fabrizio è pronto vi facciamo vedere il video di ti amo con la Nastascia così vedete anche la villa dove è stato girato ma solo un minuto perché poi il resto non è finito un assaggio grazie Fabrizio c'è un problema di connessione quindi è chiaro che probabilmente ce l'abbiamo? ce l'abbiamo eh lo so è anche pesante quindi mi rendo conto che non è non è semplice ma ci proviamo oh ragazzi vi faccio vedere un minuto ce la facciamo Fabrizio sì eccolo ti amo un soldo ti amo in aria ti amo se viene testa vuol dire che basta ti amo la vita la vita l'abbiamo c'è ci lo so che ho ti amo e ti amo che poteva ti amo che poteva non è non è mai non è che ho ti amo And I was losing you Apri la porta a un guerriero di carta igienico E ogni indovino leggero Che fatto quando non c'è l'ho E l'erenzola di Milo E basta, bello vedere l'altro Tra qualche giorno Grazie 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 Altra domanda? Altra domanda? Ciao Allora, una estemporanea rispetto a quello che hai detto tu sulla pittura Quali sono le differenze secondo te tra le due forme d'arte? Poi un'altra, se ti senti più musicista e cantante O cantante e quanto questo in questi 40 anni ti è stato riconosciuto Oltre ad essere autore di canzoni ma anche Arrangiatore, chitarrista e così via E se c'è un genere musicale che tu non hai ancora esplorato E che ti piacerebbe portare sul palco? Grazie Beh, il genere che non ho esplorato Parto dall'ultima, poi mi ricordi le altre Sarebbe quello della lirica Perché non ho una conoscenza così approfondita Come per il pop rock che ho invece di tutti gli anni ripetibili Dai 60 fino agli 80 Fino ai police, voglio dire Dai Beatles ai police è successo tutto in quei 30 anni lì E quindi nella lirica non ho assolutamente conoscenza Sono molto ignorante e mi piacerebbe molto approfondire la conoscenza di questo repertorio storico Anche se ho visto delle opere diciamo più di Puccini Perché ritengo che lui sia stato un autore più vicino al mondo pop della nostra epoca E quindi mi sono un po' più affezionato alla sua creatività che ad altri importanti Però questo è sicuramente la via di qualcosa che non conosco E non so, magari poi ne verrei anche influenzato se dovessi conoscere L'altra? Un musicista o cantante? Molto più musicista perché io di cantare non ci pensavo neanche Non avevo nessuna voglia di fare protagonista Così come artista Quindi io stavo bene Suonavo la chitarra Ho suonato 8 anni a chitarra per diversi artisti, diversi gruppi Facevo il free landing in studio Ero bravino anche quando ero giovane Quindi ho avuto un'esperienza fantastica quando suonavo la chitarra Di cantare non ci pensavo neanche Poi avvenne tutto in un modo così normale Perché inizia a scrivere delle canzoni All'epoca, nel 74, feci insieme a Damiano Dattoli Un autore già all'epoca famoso Perché aveva composto E' un applauso E' un applauso E' un applauso Il quale per me è stato un grande maestro Mi ha insegnato un sacco di cose Da mettere in ordine le note Alle parole E' un applauso di cose E' un applauso di cose E mi sono sempre stato riconoscente Per questo A lui come tutti gli altri grandi della discografia Che all'epoca esisteva Oggi non esiste più Ed è una delle ragioni Tocco un punto Per il quale secondo me Ai ragazzi di oggi manca molto Questa famiglia dietro di grandi competenti Che a noi hanno aiutato tanto Perché è un parere di un editore Piuttosto che di un direttore artistico Che io ho avuto la fortuna di vivere Che era Alfredo Cerruti Più conosciuto come Voce di Bisquando E fu lui che disse a Bigazzi Quando ci incontrammo E scriviamo insieme le prime canzoni Fu lui a dire a Giancarlo Ma perché non se ne canta lui Perché noi le avevamo scritte per altri E all'epoca io dissi no Io non me la sento Sono timido Insomma non ce la facevo Non l'avevo mai fatto Si cantavo nei gruppi Facevo il corista Queste cose qui Però non avrei mai pensato di cantare Poi invece ho scoperto Molti anni dopo Che forse la mia voce Aveva personalità Che poteva emozionare Eccetera eccetera Ma ci sono arrivato Molti anni dopo E quindi cioè È nato tutto così Per caso Come sono nate per caso Tante altre cose Abbiamo l'ultima Sì abbiamo l'ultima Ciao Umberto Allora io ti volevo chiedere Visto che si parla di musicisti Chitare Qual è stato il tuo artista O gli artisti che ti hanno influenzato Diciamo nel senso musicale Guarda dai Beatles Ho detto prima Dai Beatles ai Police Tutta quell'epoca è stata Storicamente molto molto importante Per la mia cultura musicale E invece delle nuove leve Dei nuovi gruppi che sono sorti Se c'è qualche artista americano Internazionale che magari Ce ne sono diversi Non è inutile fare piccoli nomi O grandi nomi Non c'è più quel Quel flusso Hai capito Generazionale Che creava Quella particolarità Di sonorità Di Personalità vocale Eccetera eccetera Oggi non esiste più Quindi Mi arrivano delle cose Emozionalmente Però non Non c'è qualcuno in particolare Che potrebbe mi faccia pazzire Ok Vi ringrazio a tutti A breve vi avrei rapportato Una merenda Un buffet Appunto per Lietarvi Adesso facciamo il fotocollo Con i fotografi E Vi ringrazio ancora Grazie mille Per la disponibilità Per le vostre domande Grazie 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 a tutti 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 Grazie.